Prevenire e sigillare, è stato questo il tema di un incontro ospitato questa mattina nell'aula magna dell'istituto comprensivo Salvatore Quasimodo inserito in un progetto di educazione sanitaria avente per tema l'igiene dentale. A presentare nei dettagli il progetto è stata l'insegnante Gabriella Soraci. 14 in tutto gli odontoiatri che prenderanno parte al corso. Un bellissimo progetto che sta coinvolgendo, come ha detto lei, i genitori soprattutto per ingulcare ai bambini, ai nostri alunni, alle famiglie tutte che la prevenzione è estremamente importante per la crescita sociale e culturale di questi nostri alunni. Discreta la partecipazione dei genitori e degli alunni del comprensivo Quasimodo a cui il progetto si propone di rivolgersi in maniera del tutto gratuita. Al tavolo dei relatori stamattina erano presenti il dottore Piotermene e il pediatra Beniamino Licata. Oggi abbiamo degli specialisti presenti che stanno spiegando in maniera molto dettagliata e puntuale e precisa quello che è il lavoro quotidiano che i bambini e le famiglie devono fare nei confronti dei loro figli per, ripeto, evitare problematicità future se non esegue una corretta igiene orale.